E' stata svelata durante la prima seduta del Consiglio Comunale la nuova giunta di Monte Santa Maria Tiberina. A guidarla è per la terza volta il sindaco Letizia Michelini. Al suo fianco come vice siede Michele Simoni, mentre il terzo componente di giunta è Gregorio Severini. I componenti della giunta sono Michele Simoni, a cui è stata affidata la delega vice sindaco, e Gregorio Severini, a cui invece sono state date le deleghe ai lavori pubblici, all'ambiente, e alle politiche giovanili. I due componenti della giunta ci sono rimessi con la surroga per Diego Brillini e Giancarlo Banelli, mentre il resto del gruppo di maggioranza vede sedere nei banchi Enrico Bruschi, Massimo Raini, Luca Mancini, Roberto Morelli e Donatella Fogliani. Per il gruppo di minoranza invece gli eletti sono il candidato sindaco Francesco Algieri Rignanese, Alessandro Pazzaglia e Giorgio Signorelli. Gli obiettivi per i prossimi cinque anni è fare meglio dei cinque precedenti. Ce ne sono molti, sono tutti indicati nel nostro programma elettorale, verranno discussi nelle linee programmatiche di questo nuovo mandato, ma saranno volti sicuramente a fare il bene della nostra comunità, a consolidare i molti risultati raggiunti, ma a perseguirne anche dei nuovi. Durante la seduta sono stati decisi e votati i due capigruppo, per la maggioranza c'è Brillini, per la minoranza Algieri Rignanese.